Ben trovati e benvenuti al punto sulle notizie realizzato da Vivi Centro Network, direttore Mario Vollonu. Ecco l'arrivo dell'albero di Natale che svetterà in piazza San Pietro. Sono stati gli agenti della polizia locale Roma Capitale del gruppo Speed, gruppo pronto intervento traffico, ad avere l'onore di scortarlo, in collaborazione con le unità del nucleo di polizia stradale dell'ispettorato Vaticano della Polizia di Stato. Grazie al contributo degli agenti, l'imponente abete di oltre 20 metri è arrivato a destinazione sano e salvo poco dopo la mezzanotte. Così il nostro momento di informazione. Chi volesse approfondire le news ascoltate può trovarle con tutte le altre news più interessanti del giorno sul nostro network vivicentro.it e nelle nostre edizioni regionali e sportive.